Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento flash di Betty News. Apriamo la nostra edizione parlando di motociclismo e della vittoria di Valentino Rossi. Epilogo a sorpresa a Brno, dove una caduta di stoner, favorino Taibukis a 1,55 ad inizio gara, ha spianato la strada al successo di Valentino Rossi in lavagna a 2,60, rovesciando così le attese della metà dei Bukis, quasi certe di una vittoria del pilota Ducati. L'australiano in rosso è infatti uscito di scena al settimo giro, sbagliando l'entrata in curva nel tentativo di tenere a distanza il dottore. Una necessità dovuta alla volontà di riscatto dopo la batosta di Laguna Seca. Secondo lo spagnolo Elias su team satellite Ducati. Terzo un ottimo Capirossi su Suzuki. Settimo Melandri, ora il Pesarese, già favorito dai Bugmakers per la vittoria finale, guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio a sei gare dalla fine. Nella scherma invece un altro grande risultato. L'Italia della scherma non molla l'osso anche stavolta e si porta a casa un gran bronzo. Merito di una squadra di sciabola compatta, composta da Aldo Montano, Giampiero Pastore e Luigi Tarantino, che dopo aver rincorso per tutta la gara alla Russia è riuscita a strappare per una stoccata l'ultimo gradino del podio. La firma è stata proprio di Montano, oro di Atene, che da 42 a 44 riesce a rifilare tre stoccate consecutive e a vincere la medaglia di bronzo. Lo schermidore livornese riesce così a farsi perdonare la brutta gara individuale con un assalto davvero campione. Per la cronaca, l'oro è andato alla Francia, che si è imposta per 45 a 37 sugli Stati Uniti. E ora, spazio all'Ipica. Serata nel segno dell'attrice del Gran Premio delle Marche. Sono due i principali appuntamenti ipici previsti per questa sera, domenica. Alle 22.15 all'Ippodromo di Montegiorgio sarà di scena il Gran Premio Marche, evento giunto ormai alla sua trentesima edizione. La sua prima edizione risale infatti al 1978, come prova sui 2.060 metri per cavalli indigeni di tre anni. Nel 2001 la distanza fu portata a 2.400 metri, mentre dal 2002 si corre sui 1.600 metri. Proprio da qui, dieci anni fa, iniziò la grande ascesa di Varenne, vincitore proprio nel Gran Premio delle Marche. Sempre a Montegiorgio, alle 23.05, spazio invece all'attrice, in corsa a 7 cavalli sui 1.600 metri. Da tenere d'occhio il sulti di Minucci con il numero 7 alla guida di Lino M. Ancora nulla da fare per il Super Enalotto, appuntamento rimandato a martedì prossimo. Prosegue la corsa del jackpot del Super Enalotto verso i 50 milioni. Anche nell'estrazione di ieri, infatti, nessuno ha pronosticato la sestina vincente, che, ricordiamo, era composta dai numeri 7, 10, 35, 64, 77, 89. Numero jolly 21, numero superstar 83. In compenso, il concorso ha però dispensato un 5 più da 630 mila euro, finito ad Alessandria, diciassettesima vincita di seconda categoria dall'inizio dell'anno. Nessun cambiamento, infine, nella classifica dei centenari. Rimangono, infatti, tutti al loro posto i quattro ritardatari, protagonisti dell'otto, capitanati sempre dal 21 su Firenze, che ha toccato quota 138 turni di assenza, seguito dal 41 su Bari a 124, il 79 su Roma a 112 e il 17 ancora su Bari a 110. A tre sole lunghezze dal toccare il prestigioso traguardo a tre cifre, anche il 5 è sempre su Bari. E notizie non positive, invece, arrivano dal fronte dei Casinò d'Oltreoceano. Un'apprensione superiore al normale ha caratterizzato l'attesa del resoconto mensile sui proventi generati dal gioco nel Nevada. I proventi generati dal gioco in maggio erano in calo del 15% per quanto riguarda lo Stato nel suo complesso, mentre la Strip e Clark Country perdevano il 16%. Las Vegas è stata investita dalla crisi generale, ma la recessione nel settore del gioco è una minaccia ben più temuta. Si è tirato quindi un sospiro di sollievo la notizia che in giugno i proventi dal gioco erano in ripresa del 2% rispetto allo stesso mese del 2007. La Strip ha comunque ancora confermato un declino, declino contenuto in un poco significativo 3% che incute meno timore del segno negativo a due cifre del mese precedente. Ed era questa l'ultima notizia, arrivederci alla prossima edizione di Betting News. Grazie a tutti.